Musica Benvenuti ragazzi sono Gioe con il terzo episodio del Gioe con gli amici Non so perchè ho detto Gioe così da rincoglionito Comunque oggi con me ci sono Tech, Drive, Dreadhats, Mick, Alpha, Molly e Invasion Ciao amici, sembra più un Gioe dice che un gioco dell'armi Ma comunque il gioco dell'armi with friends è una serie che facevo tanto tempo fa che non l'ho più fatto Però ci divertivamo tantissimo e consiste di fare Posso parlare amici? Ok Dobbiamo andare online a fare trick con il coltello balistico all'ultima E nulla non so se farvi tanti tagli o farvi la partita in live mentre mi gratto la pancia Boh Fai live, fai live E si comincia subito E lui Incredibile Il balistico attraversa tutta la mappa Oh ragazzi sappiate che finiscono le amicizie sul gioco delle armi Ah ok non sono ancora entrati Vai ma entrate fa niente No no non crasha facci di merda Mi parte la gola Subito Subito cazzo No 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 perché c'è l'uomo KPSG subito Guarda che giù è che mi vuole Ma dove c'è l'uomo Allora muovi Fai schifo Fai troppo schifo Come hai fatto l'uomo Ma allora rega Sì vabbè Secondo me alla fine di sta Prima della fine di sta partita Parti una gola qualcuno Madonna No ma fottuto Faccia di merda Guardalo Mamma mia Lo apri E vabbè Su chiamelo Itmarker Tipo aggrappati Aggrappati al prepuzio della mia cappella Di posto Fai Un people Operare Un person太 Un person Dov E Un person Anfano Anfano Per Non Anfano Non In Tu Anfano E Non Anfano 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 non vuoi oh dio ce l'ho fatta raga e si passa ma cazzo che ti erano vado ho shuttato raga io vorrei fare tanto lo stronto c'è tipo andare in giù vai e dai tec muori oh dai e la fila e la fila è lui e ci vuoi che parevo 3 4 non morire ma io tipo che non c'è un mio quello cazzo è la chiama sei invece ok grazie a me la sera vabbè ma non ci credo ma siete tutti immortali vabbè guarda questa non siamo noi immortali e lui che non sa giocare cioè giusto come ragionamento non ci credo c'è vabbè un salto di 10 cm sono morto azzola sposta ti faccia di merda sempre la stai su chiamelo grappa di alprefuzio pom che sbarretta come chi è che recca io sto recando sbarretta che cazzo di domanda è fa così ah ho capito che ah ho capito che che recca io un pazzo madonna quella madonna la bovina madonna la bovina ma cazzo di dio regazzo sta cazzo di balestra non fa nulla dove dov'è questo e mi ha ucciso ma quanto cazzo fa piccolo palestra e che ma fatti marchi raccoglieremo 2440 piccani duccio ma non so i tuoi genitori non t'hanno mai voluto bene mai se no che palle finiscono così stronzi e non non è quali faccia di merda percottino giochi 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 trozo cazzo subito si parte cazzo oh no madonna il primo che beccolo a coltello faci di merda vi taglio la gola vieni qua vieni qua ahahah 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 c'è tanto questo di merda cazzo tisite roba la bocca 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 i tuoi ho preso male anche tanto i tuoi faccia ma oddio non ti volevo uccidere un amore fuori ma però rega potrebbe morire uno io sta fa sfida palestra cecchino contro uno tipo e guazzuca io ci dobbiamo di casa vabbè cazzo la più che le di coltellino bellissime ma c'hai la madre messa c'è la madre giocolata non so cosa c'ho no 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 e che sta tipo sborrante ti sta bene ti sta bene comunque perchè hai giocato in un attimo mamma mia c'è che ti è morita la madre era il tuo vaffanculo c'è lo scopo del genitore e si dice buona notte hereticia i titoli i piccoli della coltellata a volte 1 la tatuata come la natura 로 pagina la ho asemato il terreno zero termine di tricco termino termino anche se siamo online no siamo online però vabbè cosa? ma è strano fatto il colbalistico oh mamma mia mente del cattolo ma vai che stai ma che termine ti dico eh oh scusa oddio si esplò ma comunque è stranissimo fatto il colbalistico perchè tipo tu spari dritto e vado alla parte opposta ma era più bello prima no raga se facevo sto dubbis cazzo oddio lo usavo nell'episodio che è questa che sta a terra ma no prova del world bank gio è negro basta è una mignota puttana la madonna l'ho ucciso iniziano gli insulti che è quello sta a 27 kg e non sta ancora all'asta è magica questa partita ragazzi è magica fuggite perchè quello fa suicide non c'è non c'è perché ragazzi dovete sapere che se ti voglio mi suicidio così mi ritorno la balestra eccolo qua ci ho passato gli anni con quella balestra di merda che cosa che mi fa oddio c'era cazzo c'era tantissimo c'ho evitato oddio mi è caduto rega mi sentite? è un po' 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 pochissimo però socconellutato di Gesù ok mi è caduto il microfono per terra amici non ci sentite è tipo in culo al mondo masi credibile nelle caverne dalla Russia ah ragazzi c'è minchia vi taglio le parti più divertenti perchè così non finirà mai più la partita esatto tipo andrà avanti all'infinito richiama se tipo ci fai busteriamo ma il progetto che cosa vuol dire l'amore dei vecchi tempi e qua e qua e qua e qua chi è questo oh che mi fa sparare col baristico ma calmatevi chi è questo? chi è questo? chi è qua? ma il tuo è sicroso oddio che spavento no alfa c'è la faccia di merda dubissima che vuoi fare? che vuoi fare? vieni in cura ahahahah metti il microfono bene eh ce l'ho in cura il mondo il microfono aspetta dove cazzo è? eccolo qua mi sentite? certo grazie grazie amici mamma mia è messo a fa 1440 cioè non ha senso no oh 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 Ma che cazzo è? Dico Come l'hai fatto? No 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 Oddio Quella ha fatto 30 kg quando il massimo è 20 Oddio Oddio Vabbè ragazzi per il terzo episodio è tutto Ci sentiamo più tardi O con il prossimo video da Giovedutto Bella